Non so se pronuncio bene, Pietro Gaviano, lavoratore poligrafico RSU Wilcom. Buongiorno, grazie per avermi dato l'opportunità di poter essere qui a spiegare quello che noi stiamo provando come lavoratori poligrafici nelle nostre aziende e in quello che poi è la nostra casa. Io lavoro per un quotidiano che si chiama La Nuova Sardegna, sono arrivato giovanissimo, avevo 19 anni, nell'85. Nell'85 la Nuova Sardegna vendeva 70.000 coppie e noi poligrafi, 70 anche oltre in alcuni periodi in estate. Ed eravamo in 110, 110 poligrafici. Oggi il mio giornale vende 29.000 coppie e siamo in 52 poligrafici. E' chiaro che i fattori sono tanti. Io sono arrivato quando c'era il famoso passaggio dal caldo, cioè dalla vecchia tecnologia del piombo, al freddo come si chiama e quindi la nuova tecnologia che noi abbiamo vissuto in un momento dove il giornale esprimeva cultura, era un mondo bellissimo, affascinante, coccolato da tutti, dove anche i giovani, anche i figli si vedevano col giornale sotto braccio andare a scuola, era una cultura. In quel momento noi abbiamo vissuto questo processo dal caldo al freddo come un'innovazione bellissima, la tecnologia, il computer. E poi però pian piano ci siamo resi conto che era la nostra, non so come definirla, era l'ultima spiaggia. E' quello che ci ha portato diciamo così alla deriva insieme ad altri fattori, al fatto che i nostri figli non comprano più il giornale, rispetto al fatto che internet, noi lo chiamiamo così, il web ci ha portato comunque, ci ha sottratto delle vendite, il fatto che la pubblicità, cioè le aziende, soprattutto in un territorio come la Sardegna, non investono più perché hanno difficoltà a pagare i lavoratori, a pagare i loro, hanno già i loro problemi e quindi non investono come prima. Tutto questo ha portato ad una crisi che noi stiamo vivendo veramente male. L'azienda in cui lavoro, noi siamo quattro anni in solidarietà, in ammortizzatori sociali e li abbiamo quasi terminati e con questo trend di vendita e con questo trend di calo di pubblicità è chiaro che non sappiamo cosa l'azienda voglia fare nel prossimo futuro, stiamo parlando da qua a fine anno. è chiaro che se non c'è un ammortizzatore, se non si trovano soluzioni per dare una mano, io so già che il mio futuro lavoratore potrebbe terminare anche entro l'anno, io non so se l'azienda aprirà le procedure di licenziamento, che cosa succederà. E' chiaro che dopo 35 anni di lavoro non avere più un futuro, sapere che per continuare a lavorare sicuramente dovrei varcare i confini della mia isola, perché non c'è lavoro, è veramente difficile. Stiamo lavorando, stiamo continuando a lavorare con la mente come negli anni 80, però è chiaro che è molto difficile. E' difficile dire vorrei vivere di ammortizzatori sociali, però in questo momento l'azienda non ha altre scelte, noi capiamo, siamo vicini all'azienda, stiamo anche cercando altre forme di collaborazione, cioè toglierci una piccola parte di stipendio per cercare di continuare a far andare avanti l'azienda, però non basta, quindi vi chiediamo come lavoratori un aiuto, trovare soluzioni. La 416 è un aiuto, ci può permettere di arrivare alla pensione, ecco questo sì. Quindi niente, la richiesta è di aiutarci ad arrivare alla pensione, ecco, perché veramente è un settore che sta subendo una crisi infinita, viene da tante parti, cioè non si può individuare. Faccio un esempio banalissimo. Io vado al bar la mattina a prendere il caffè e il bar sotto casa addirittura ha due quotidiani sul tavolo, sul bancone e questo lo leggono diverse persone. E' chiaro che non dico che le 100 persone che arrivano al bar comprano la nuova Sardegna, ma due o tre o quattro sì. Quindi questa è concorrenza sleale, perché se io vado al bar, mi porto la birra da casa e chiedo due bicchieri, è chiaro che il barista si inalbera. C'è stato un periodo in cui il quotidiano veniva, c'erano dei gruppi su Whatsapp con diverse centinaia di persone e tutti si scambiavano il quotidiano attraverso Whatsapp. La mattina presto arrivava puntuale la nuova Sardegna, ma come il Corriere, come Repubblica, tutti i quotidiani, Topolino, venivano hackerati dai nostri server, dai nostri siti e venivano distribuiti in questi gruppi su Whatsapp. Ecco, anche questo è un fattore, purtroppo. Noi come azienda ci siamo mossi, abbiamo presentato una denuncia all'autorità e questo è servito per far sì che il sistema un attimino si ridimensionasse, però è ancora in atto, ma quindi chiediamo anche strumenti per poterci difendere. Vi ringrazio, vi ringrazio.